Confermata l'unanimità dall'Aggiunta regionale la data delle elezioni comunali in Sicilia che si svolgeranno il 28 e 29 maggio. Si voterà domenica 28 dalle 7 alle 23 e lunedì 29 dalle 7 alle 15 con eventuale turno di ballottaggio nelle giornate dell'11 e 12 giugno. Tra i 129 comuni chiamati alle urne ci sono anche 4 capoluoghi di provincia, Ragusa, Siracusa, Trapani e Catania. In 114 amministrazioni si voterà col sistema maggioritario mentre in 15 col proporzionale l'inserimento di eventuali nuovi comuni potrà avvenire entro la data di indizione dei comizi elettorali prevista con decreto dell'assessore alle autonomie locali tra il 60esimo 29 marzo e il 55esimo 3 aprile, giorno antecedenti le votazioni. La tornata elettorale interesserà la città di Catania dove si voterà per eleggere anche 6 circoscrizioni di quartiere. Oltre al capoluogo sono 7 centri al di sopra dei 15.000 abitanti in cui si voterà col sistema proporzionale. Aci Sant'Antonio, Aci Reale, Belpasso, Biancavilla, Gravina di Catania e Masca Lucia. I 12 comuni nei quali si andrà al voto con sistema maggioritario sono Camporotondo Etneo, Castelliudica, Maletto, Mineo, Piedimonte Etneo, Riposto, San Cono, San Gregorio di Catania, Santa Venerina, Sant'Alfio, Valverde e Via Grande.